Ma guarda che giornata, ma ti pare giusto che uno deve andare a lavorare con una giornata così, con un sole come questo? Sto vigliacco del sole, si è giù che temeno! Capirei uno che è vecchio, uno che non sta bene, ma un ragazzo come me, sano, robusto, un bel ragazzo, è stregato andare a lavorare con una giornata così! Certo, sei stregato a lavorare tu! Ragazzi, guardate chi arriva! Ah, ma questa è che è venuta l'occello! Bello del consiglio, bello del mamma tua! Vedi che spazio, è vero! Stanotte me lo so, ammazzate la parola! Guardate gli articoli, vetrina! Ah, non vedi queste, è da Tavushi! Ammazza che fata! E poi dicono che a questo mondo non c'è più bontà! Vita mia! Amore mio, anima mia! Ma chi si muove, chi ci va a lavorare? E dite di guarda, eh! È dispettosa! Forse fai complimenti, si vuol far pregare! E bacia pure bene! Bacia freddo! Buongiorno! Ma che è successo? Qui è cambiato tutto! Sabato non c'era un cazzolaio? C'era, oggi c'è una sartoria da uomo! Ah, e allora mi faccio fare subito un paio di calzoni, me li fa lei? Sì, sì! Ma le misure le prende lei? È naturale, no? E allora se così me li faccio pure io, no? Ce n'ho di belle fatti! Se ve li volete provare... Come no! Accomodateli! Intanto levatevi i vostri, io torno su! Sì! Ma tu che dici? Verrà lei a provarceli! E dai, su, svelto, levateli! Mannaggia, se lo sapevo mi cambiavo le mutandine stamattina! Siete pronti? Sì! Lo sapevo che quella ci stava! Ammazza, io con le donne c'ho un fiuto! Dai! Oh, ragazzi, chi mi dà una mano? Pronti! Subito! Ammere, che prendi! Ammere, che divertito, guardate! Che vergogna! Che senti? Ammere! Alemere! Grazie a tutti.